Più difficile la sua domanda sulla von der Leyen. Io avevo, ne ho parlato con Tognato, scommesso che non avremmo votato a favore, perché io ho una maglietta con la quale spesso la uso, è una delle magliette che uso la notte, perché ormai all'esterno metterla di giorno non è il caso. Ed è una maglietta di una manifestazione quando eravamo molto lontani dai risultati attuali, ma già cresciuti abbondantemente. E c'è scritto Michael PD, Michael 5 Stelle. Non ne abbiamo fatta una mai con i Verdi, mai con la Sinistra Europea, mai con la Salis, tanto per fare un nome evocativo, non che sia, che io ce l'abbia con lei in maniera particolare. Anzi, col padre ho intrattenuto un ottimo rafforto, non fosse altro perché era un elettore del mio partito conclamato fino a che la figlia non lo portasse giustamente da padre su posizioni diverse. Forse mi sarei comportato anch'io, anch'io come lui.